Signori, guardate un po' che cosa mi è arrivato oggi, quando questa cosa è apparsa di fronte ai miei occhi, quando me lo sono ritrovato sulle scale, dopo che Bartolini come al solito ha fatto i suoi casini, casini che non si capisce chissà perché, per come, come siano umanamente possibili certi casini, e cercavo tutti i diagrammi di flusso, tutte quelle situazioni che hanno messo in moto quella concatenazione di eventi per portare a quell'evento specifico, e non mi sono dato una risposta, però abbiamo Seven Citadel, cioè una roba incredibile, cioè alcuni progetti tipo questi sono talmente del passato che a volte te li dimentichi, sono come una divinità, sai che è lì da qualche parte ma non la vedi, non riesci a vederla, ed è un qualcosa di incredibile perché questo è un progetto di quanti anni fa, cioè io ho visto prima consegna stimata a maggio 2022 e di tempo ancora ne è passato, quindi direi che è incredibile averlo qua, cioè non è un qualcosa di incredibile, è un qualcosa di epico, speriamo che poi non abbiano fatto quei casini con i colori, con le roba lì, che poi anche con il Seven Continent originale avevano mandato da parte le carte sostitutive, che tra l'altro quel boxone che nessuno ha voluto, porca puttana, perché, ribadiamo, vogliamo ricordare alle teste di cazzo che questo, che io avevo puntato per una raccolta fondi, che sono le carte di rimpiazzo, questa cosa qui rappresenta in realtà il gioco principale, rappresenta il gioco, rappresenta il gioco, rappresenta il gioco, poi vi buttate delle pedine a cazzo, anche quelle del Monopoli, vi buttate dei fogliettini, vi prendete delle pedine assolutamente a caso, dei dadi, e vi scaricate il manuale online, ma avete il gioco, il gioco, con le carte, tutte le carte sigillate, che cosa c'è detto questo boxone, questo è un gioco che io desideravo da tempo in memoria, perché mi manca proprio un bel gioco narrativo, che prontamente mi farò in solitario, ma vediamo il boxone, già tanto che la scatola abbia una configurazione, uno status dignitoso, o là, la carta numero uno è una letterina dedicata a tutti i bakers, grazie che avete avuto fiducia in noi, abbiamo creato 250.000 parole, le abbiamo scritte, abbiamo lavorato tantissimo, e nonostante l'enorme ritardo perpetrato nel corso del tempo, oggi avete il vostro prodotto fra le mani, et voilà. Abbiamo quello che dovrebbe essere un semplicissimo segnalibro, che eventualmente mi pare abbastanza delizioso, vediamo il manuale, con tutta una serie di contenuti, le pedine, ok, vedremo un po' di sacchettini, il manuale non sarà così temibile, ma queste sono robe che scopre i vari tipi di carte, come fare lo storage, questa cosa è una cosa che mi dedicherò a questa attività, prima di tutto andare a sistemare le cose come devono essere sistemate, perché poi, se no, facciamo casino, conseguenze delle azioni, altre conseguenze, le skill, i life points, dovrebbe essere una versione sicuramente più evoluta del gioco originale, materiale plasticose, tipo le tovai, con anche la plastificazione, non si vedrà un cavolo, questa cosa non si stenderà mai più nella vita, ma è una roba in cui nella vita dovremo piazzare degli sticker, o delle robe del genere, forse sì, forse no, capirò solo vivendo, o giusto per visualizzare la mappa di gioco, che comunque appare bella e estesa, mi sembra un moro wind così piazzato a stima, secondo me c'è da piazzare qualcosa, da segnarsi, o forse questa roba che si può pastrocchiare con il penarello e si cancella, non ne ho la più qualità, scopriremo solo vivendo anche questo, abbiamo una serie di questi, ah sono tutti progressi che noi facciamo, la community, quindi il party, sarà il nostro party, il destiny, abbiamo tutte le perks, quindi le skill e il ruolismo che vengono di conseguenza, abbiamo un'altra riproposizione della mappa, ok, sarà la stessa medesima mappa, abbiamo la descrizione delle side quest, chi l'ha iniziata, quando è stata finita, ok, i progressi, questa è una cosa interessante, abbiamo buildings, perché ci sarà roba da costruire, wash tower, outer wall, che cosa ci danno, dei vari edifici, edifici che possono essere costruiti, fighissimo, e ovviamente un glossarietto delle icone, poi abbiamo il libro e i dialoghi, è qua, bello spesso, 250.000 parole, 87 pagine di bontà, guardate lì, dialoghi da leggere, sì, sì, questa roba minebria d'immenso, leggere, 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 allora, a new beginning, lo scenario introduttivo, ah ecco, scenario introduttivo, per non spoilerarsi nulla, magari questo qua, lo possiamo anche fare insieme, e cercare di capire, le varie funzionalità, quindi, scegliere, scegliere un personaggio, comporre il tuo primo mazzazione, ok, questo magari, sì, ci possiamo dare una botta, bello che fanno queste cose, così magari si può anche testimoniare, l'evento, senza creare troppi spoiler, abbiamo poi, drums of desolation, le varie minacce, a sollevare conclusioni, in base alle scelte, che facciamo nella vita, è veramente qua, c'è un bel po' di materiale, poi abbiamo, oh, un altro, un altro libro delle minacce, saranno delle storie distinte, perché anche, anche nell'originale, ovviamente c'erano vari scenari, e poi, una svagonata di carte, vediamo se le hanno piazzate bene, se i colori, poi ci saranno gli smanettoni, che andranno, andranno a imbussare ogni singola carta, ma, ma per favore, dai, casino va bene, ma così tanto, anche no, equipaggiamenti, carte, ce ne sono, ce ne sono davvero, una svagonata, ecco, queste qua, sì, questa roba qua, mi piace, mi piace, e qua, si possono intravedere, già dei luoghi, belli, carini, poi abbiamo, i standings, dei nostri personaggetti, all'interno, già un'espansione, l'espansione, contiene due divisori, 30 carte, chissà se si può buttare, già dall'inizio, e ovviamente, una svagonata, di divisori, questi sì, queste qua, mi sistemerò le carte, naturalmente, con pazienza, e poi, la scatolina, con i personaggetti, allora, ci sono questi affari, plasticosi, con questa, questa rotella, per segnare, i punti vita, no, i punti esperienza, per segnare qualcosa, insomma, poi abbiamo gli standings, naturalmente, abbiamo la lente di ingrandimento, per ricercati come me, va benissimo, abbiamo i dadini custom, dei bei, dei bei dadelli, con le stelline, e poi ovviamente, molto molto minuscoli, e piccini, poi, siccome, quando si tratta di gameplay, io voglio, tutto, voglio assaporarmi il gameplay, il più a lungo possibile, abbiamo sto packaging qua, di roba, buttata lì, ovviamente, essendo passato, così tanto tempo, io, non ne ho la più pallida idea, di che cosa si tratti, sul cartone, espansioni di gameplay, ragazzi, allora, knowledge is power, vediamo un pochino, 40 carte, 20 carte doppie, sarà qualcosa, sarà qualcosa per, i punti esperienza, dei personaggi, vediamo questo, questo qua, unveilers, sicuramente, nella campagna, hanno annunciato, hanno fatto vedere, ci sono anche delle miniaturine qua, di robe tentacolose, 6 unveilers, che sono questi, 30 carte, vediamo, queste robe, non so mai, se buttarle, il mio, il mio impulso, è quello di buttare, se è possibile, sin dall'inizio, buttare tutto quanto dentro, sì, dai, per fare un mega partitone, The Alambic of Valengard, anche qua, ah ci sono delle miniaturine, anche qua, c'è sto boxino qui, 3 piece of Alambic, quindi, qua gli Alambic, questi qua, 30 carte, Mystery Box, questa qua, la Mystery Box, ok, molto interessante, The Final Throne, questa è bella spessa, questa è bella spessa, la sento anche pesante, allora, New, New Threat, ah, c'è un Threat Booklet, un altro, 126 carte, ok, questo qua, non so, non so in termini di gioco, la minaccia, che cosa, che cosa significhi, però, abbiamo, però, un altro, libricino, qua c'è, c'è del gameplay, comunque, in mezzo a tutto quanto, qua c'è del gameplay, ragazzi, che mi porterò avanti, mi porterò avanti, per dei mesi, forse degli anni, probabilmente degli anni, visto come, l'andazzo è ricomandata, anche in solitaria, con Frosthaven, direi assolutamente sì, me lo porterò avanti, per un tempo, indecente, va bene, e direi, che per oggi è tutto, ci vediamo con un altro gioco, saluti, iiii, 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 grazie a tutti,